Cari amici di Meteo Giuliaci, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. La perturbazione, la nuova perturbazione sta dando i nuovi frutti, ovvero del maltempo, delle piogge, dei rovesci, dei temporali. Attenzione nella giornata di domenica, in particolar modo sulla Sicilia, maltempo, piogge, rovesci e temporali anche di forte intensità. Ma attenzione anche sulla Sardegna, su buona parte del versante tirrenico, anche zone interne appenniniche e dell'Italia meridionale. Insomma maltempo. Andrà meglio al nord-est, maggiori aperture del cielo, si rivedrà il sole dopo le tante piogge. Sul nord-ovest invece ancora delle piogge, soprattutto al mattino e magari al primo pomeriggio. In particolar modo si addosseranno verso i settori alpini, prealpini e appenninici, quindi andando verso la Liguria e il Piemonte meridionale. Tuttavia sul nord-est si accenderà un po' di instabilità tra il pomeriggio e la prima serata. A partire dai rilievi alpini e appenninici e qualche sconfinamento ci sarà delle piogge verso i settori di pianura, ma fenomeni fugaci. E tutto buona domenica, nonostante la nuova perturbazione in arrivo. Arrivederci. Grazie.